Ciao a tutti, nuovo video per dirvi un attimino molto velocemente i prodotti che ho finito nel momento e per parlarvi un po' di altro Allora, ho finito questo detergente delicato della Biofficina Toscana Mi è piaciuto molto, mi è durato anche parecchio Penso di averlo preso a giugno, più o meno E mi è piaciuto parecchio perché comunque è veramente molto delicato e adatto sia all'igiene del corpo che per l'igiene intima Quindi mi piace, delicato, buon profumino E insomma, se lo dovessi consigliare lo consiglierei perché no Comunque dura parecchio questo fraconcino Poi, altro prodotto terminato finalmente, non c'è il tappo, comunque il Vatica Comunque è questa sorta di olietto per capelli In realtà è olio di cocco con amla, ci sono diverse bette dentro Che si usa comunque come impacco per capelli Allora, io questo l'avevo comprato, era a febbraio, più o meno Quindi mi è durato parecchio parecchio L'ho finito adesso, comunque non ho usato sempre questo, chiaramente Ho usato anche altre maschere per capelli, però mi è durato parecchio Insomma, credo che questo non lo riciclerò, lo gutterò perché comunque è molto difficile da pulire dentro l'olio di cocco Quindi, ok Poi ho finito il balsamo concentrato attivo Ne ho un altro, insomma, che avevo preso di riserva E una volta terminato anche quello, proverò sicuramente la maschera La maschera, quella della Biofficina Toscana Poi, altro prodotto finito, l'olio di cocco Della Kadi, questo qui Prodotto finito Mi è piaciuto Comunque l'olio di cocco è sempre un ottimo prodotto Però preferisco quello della Kamuti personalmente Lo trovo un pochino più dolce Comunque, anche questo va benissimo È un ottimo prodotto Poi, vi volevo parlare di un prodotto Che non ho apprezzato moltissimo Che è questo sapone L'ultimo, insomma, che ho comprato Sapone Mani Che sono Questi alla spina, insomma Che ho preso su un negozio Bio Era questo qui, olio di oliva Bio Marca BioLoo E... Allora, non mi fa impazzire più che altro Il profumino è quello della lavanda Quindi, comunque, il profumo è abbastanza buono Però, a me, personalmente Mi secca parecchio le mani L'ho diluito, ovviamente Quindi, comunque, quello che vedete È diluito con acqua Quindi, ti dura abbastanza Però, a me mi secca le mani Quindi, è un prodotto che sicuramente Non riacquisterò Questo, le volevo dire Poi, ci sono due campioncini Che ho provato La crema solare Questa qui, della BioHert Questa è la protezione 50 E, vabbè Mi è sembrata una buona crema È bella, corposa Insomma, bisogna stare un pochino lì A spalmare Però, insomma BioHert è un'ottima marca Poi, comunque Prendetela un po' con le pinze Questa idea Questa opinione che ho Perché, da un campioncino Non è che si possa provare O testare più di tanto Invece, uno shampoo Che, secondo me È un ottimo shampoo Da quello che ho potuto testare io È lo shampoo delicato Della Biofficina Toscana Io avevo questo campioncino Appunto, per provarlo E mi è piaciuto tanto Il profumo è molto simile Al bassamo concentrato attivo Leggermente più delicato E fa parecchia schiuma Mi è piaciuto molto Veramente tanto, tanto, tanto Quindi non escludo di comprarlo Comunque sia Mi piace veramente tanto C'è scritto Azione rinfrescante e lucidante E lucidante è una cosa che ho notato Chiaramente andrebbe usato Per più Più di una volta Comunque sia Però Per quel poco che ho provato Credo che sia Un ottimo prodotto Poi vi parlo Sempre molto velocemente Perché non voglio fare video lunghissimi Vi parlo Di alcuni prodotti da uomo Che mio marito ha testato E si è trovato davvero molto bene Uno è questo Il dolorante della Sante A lui è piaciuto veramente Veramente tanto Questo è quasi finito Gli è piaciuto tantissimo Addirittura gli è piaciuto di più Rispetto a quello della Alva Io personalmente Preferisco come profumazione Quello della Alva Piuttosto che questo Però a lui invece Gli è piaciuto più questo E io ho chiesto di dare un voto Da 1 a 10 A questo prodotto E lui gli ha dato un 8 Ovviamente l'ha usato lui Gli piace la profumazione Gli piace la durata E quindi per me È un prodotto promosso Altro prodotto da uomo Che lui ha promosso E che comunque Svolge molto bene La sua azione È questo gel Per capelli Della La Vera Appunto Lui non lo usa tantissimo Comunque sia Però comunque fa veramente Il suo effetto Insomma i capelli Quelli che io definisco A spazzoletta Quelli un po' Dritti diciamo No? Quelli un po' Alti che si mettono Di solito gli uomini Li fa Li fa bene Quindi Un ottimo prodotto Il profumo Aspettate che Gli uomini non fanno caso Solitamente profumi Però insomma Un profumo Niente di eccezionale Mi sembra sul limonato Leggermente Sì Leggermente limonato Però io sento anche Dell'alcol C'è scritto Alloe vera e bambù Vediamo se c'è l'alcol Sì ovviamente Perché l'ho sentito Non so quanto possa essere Aggressivo sui capelli Ripeto L'ha testato lui Quindi gli uomini Non è che fanno molto caso A queste cose Comunque contiene alcol E si sente Quindi come profumazione Non è il massimo Però Vi ripeto Fa la sua funzione Egregiamente Insomma Poi Lui comunque Vi volevo dire Che alterna Il suo durante A quello che gli ho fatto io Con la profumazione CK1 Questo qui Che la ricetta È quella del Del durante Sempre di Carlita Ovviamente E gli piace tantissimo Questo qui Quindi continuo a farglielo Eccetera eccetera Poi un altro prodotto Che invece Ho spignattato E che non mi dispiace Per niente È l'acqua Corpo e capelli Alle proteine Del grano C'è scritto Cocco Perché ci ho messo La fragranza Cocco Poi un po' Mi sono pentita Perché è un po' Troppo dolce Comunque Mi piace parecchio Perché la potete spruzzare Sia sul corpo Comunque per un'azione Idratante E emolliente Sia sui capelli E sui capelli Mi piace molto Come effetto Con un pochino Di aloe E mi piace Come vengono Vengono comunque Molto naturali Molto lucenti Belli corposi Mi piace Non è affatto male Come prodotto Insomma Ok Basta così Il prossimo video Ci sarà una bella novità Quindi Al prossimo video Un saluto a tutti Ciao Ciao